Colossea vende la tua casa Benvenuti dalla stazione Lido Centro L'immobile fa parte di una splendida palazzina Liberty degli anni 30 dotata di ascensore internamente è composto da ampio salone cucina abitabile due camere matrimoniali doppi servizi e un grande terrazzo di 180 metri quadrati ed ecco il salone La stazione Lido Centro 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 La stazione Lido Centro